Poi allora, che cosa hai portato lì sul tagliere? Allora qua ho portato una ciapulà di turgia Una? Ciapulà di turgia Turgia e salame di bacca, vero? Ovvio Con dei funghi porcini leggermente scottati abbinati a un cartoccio di tometta con delle pere, con una dadolata di pere calde quindi sempre un piatto come tu ben ricordi elaborato e anche un po' melanger cioè vari gusti avvicinati per abbinare Molto del territorio Sì, 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 chilometri zero assolutamente Come il nome Come il nome, sì, sì, hai ragione Infatti noi tendiamo a fare anche il giovedì sera ad esempio le merende sinoire che praticamente adesso viene chiamato la pericena però la merenda sinoire piemontese è tutta un'altra cosa È tutta un'altra tradizione Il venerdì faremo delle serate a tema abbiamo appena fatto venerdì scorso la serata del bollito molto gradita, è stato un bel successo e adesso andiamo a elaborare tutta una serie di serate a tema molto particolari È un po' il tuo cavallo di battaglia le serate a tema Funzionano? Sì, funzionano perché comunque dai dai in modo di Cioè gli amanti del bollito sanno dove andare Esatto, quello sì Il bollito poi diciamo che sono piatti di cotture molto lunghe quindi averle nel menu alla carta incomincierebbe avere dei costi un po' troppo sostenibili quindi puntare sulle serate a tema riesci già ad avere una gestione costi molto diversa Ci ricordi gli ingredienti, gli ingredienti di questo piatto che troviamo abitualmente nella carta? Certo, abbiamo questo salame di turgia che si trova abitualmente Certo, in ballata sì, è un salame molto gettonato con questa dadolata di funghi porcini leggermente scottati e in cartoccio, questa è una carta venere da forno abbiamo messo questa tometta stagionata con una dadolata di pere praticamente hai questo abbinamento caldo-freddo tometta con col turgia dove sta molto bene Ed è il famoso caso in cui si dice non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere e invece Franco ce lo vuole far sapere, vero? Ovvio, ovvio Perché qui abbiamo proprio la toma, un formaggio con le pere Che tipo di menu fai? Variabile? Mi hai detto che in realtà hai una clientela variegatissima di tutte le età e anche il menu è variegato? Sì, il menu è variegato molto con i prodotti del territorio leggermente rivisti Quindi con un tocco di personalità Ad esempio abbiamo questa finissima di fassone che sarebbe tipo una carne d'albese con una dadolata di toma e della salvia in pastella quindi c'è questa salvia molto croccante, calda in abbinamento al piatto freddo Facciamo anche qualcosettina di pesce per gli amanti dell'ittico Ah sì, anche il pesce? Sì Pesce fresco naturalmente Il venerdì delle volte facciamo anche un menù ittico Perché il venerdì pesce Giovedì gnocchi Giovedì gnocchi, venerdì ittico Ce li hai i gnocchi? Sempre Gnocchi, tu avevi mangiato i gnocchi col turgia Uh, erano la fine del mondo È per quello che il turgia lo conosco Lo conosco bene ed è deliziosissimo Certo, è un prodotto che si è lavorato bene dà degli ottimi risultati Franco, il fatto di avere un locale come già prima fuori Torino Fuori quindi dalla Bolge e anche forse dall'eccessiva concorrenza della città Aiuta? Può essere un valore in più? Uno deve proprio venire a cercarti perché dice ho voglia di andare da Franco Garzulano Ai pro e ai contro Quindi diciamo che io penso che imprenditorialmente la gente adesso esce mirata quindi non hai più un... Cioè non esce per dire ma il primo posto che troviamo andiamo No, assolutamente non è più il tempo Una volta probabilmente era così Adesso la gente se va a spendere li spende bene diciamo quindi il fatto di avere un locale fuori zona può essere comunque una gran bella cosa dal momento che comunque fai staccare la spina che è in città o cose di questo genere fai evadere tra virgolette Perché già il fatto di arrivare in questo caso a Fiano Torinese è una piccola gita quando esci non hai tram non hai tutta sta gente del fine settimana che può anche essere un po' fastidioso proprio per staccare la spina Grazie a tutti Grazie a tutti